ciao veronica benvenuta nel divano di italia music club io sono davide piacere grazie dell'invito e per noi è un onore avere qui te aynar sony epic records prima domanda che vorrei farti vorrei chiederti come sei arrivata fin qui oggi a parlare con noi della tua professione allora io faccio questo lavoro per sony più o meno da tre anni non non ci sono arrivata poi ne parleremo tramite un percorso di studi ci sono arrivata diciamo io ho sempre suonato quando ero piccola quindi ho sempre avuto la passione per la musica che per me era una cosa che non immaginavo avere fatto per lavoro io ho iniziato principalmente a studiare lettere cinema di visivo quindi facevo altro ho iniziato esatto ho iniziato a lavorare per l'ambiente televisivo finché musicalmente io facevo mi ascolti nei concerti a un certo punto sono arrivata a lavorare per un talent televisivo x factor ho lavorato lì per quattro anni e lì ho scoperto che che la passione poteva essere anche un lavoro perché lì facevo redattrice facevo anche facevo in pratica scouting e selezione dei concorrenti ed è in questo modo che ho cominciato ad entrare in contatto anche con sony a presentare le selezioni che facevamo durante poi i casting e mi piaceva molto quindi ho scoperto che quella parte quella dello scouting mi piaceva molto ovviamente entrare in una casa discografica è tutto un altro paio di maniche perché poi il lavoro dell'Enar non è soltanto fare scouting ma ma occuparsi poi di tutto il percorso artistico di un artista quindi partire da quello che è un potenziale e farlo conoscere a un pubblico occuparsi di delle pubblicazioni della scelta della musica e di tutte le collaborazioni che ci possono essere intorno cosa fa esattamente un'Enar nello specifico allora parto dalla definizione didascalica della sigla Enar che sta per Artist and Repertoire o Artist and Relationship Repertoire perché il lavoro dell'Enar non si limita a fare scouting e a firmare artisti una volta firmati inizia la vera sfida quindi portare l'artista lavorare al proprio repertorio quindi alla produzione dei brani alla scelta dei momenti giusti in cui farlo uscire quindi alla strategia di uscita dei brani degli album in questo senso repertorio nel senso alla realizzazione della creazione della musica e Relationship in realtà è fondamentalmente perché il nostro lavoro si fonda proprio proprio l'obiettivo di portare un artista al successo e di creare nuova musica di farli incontrare e interagire con le giuste figure quindi i produttori ideali gli autori che li possono aiutare sia nel caso di artisti che già scrivono da soli sia nel caso di interpreti ovviamente che li aiutino ad amplificare un potenziale che già c'è e quindi sì il nostro lavoro è quasi un lavoro anche principalmente facciamo da collante ci sono degli studi particolari oggi che ti portano ad essere un Enar oppure come nel tuo caso ci arrivi per caso chiaramente con la giusta esperienza e le giuste intuizioni ti portano ad avere un percorso del genere allora sì una domanda mi sono fatta molte volte proprio perché appunto io ci sono arrivata studiando poi un po' da sola sì sì dato di dato esatto perché sicuramente è importante avere l'intuito il gusto musicale e la passione però ovviamente non bastano oggi sempre di più in passato non esistono corsi su come essere un Enar proprio per questo però credo che siano importantissime avere delle basi di conoscenza musicale di diritto della musica anche capacità di analisi dei dati e di storia della musica perché è una spolverata che aiuta assolutamente fondamentale in realtà oggi sempre di più ci sono corsi ma soprattutto di management musicale e secondo me sono fondamentali chiaro che accanto a questi poi ci deve essere anche quel briciolo di intuito e di passione che è un lavoro impegnativo e quindi diciamo che la formula magica è la somma di tutte queste cose come può un artista oggi colpire un Enar? allora oggi più che mai un mercato talmente saturo che è sempre più difficile secondo me la cosa più importante è l'unicità l'artista deve avere qualcosa da raccontare che faccia la differenza con quello che già siamo abituati ad ascoltare e quindi un'unicità sia in termini musicali di innovazione musicale come è stato faccio degli esempi nostri come è stato da Supreme ma anche di linguaggio nel suo caso o che abbia qualcosa da dire in caso di massimo pericolo per noi è stata una new entry molto importante da questo punto di vista e quindi secondo me la differenza la fa prima di tutto l'unicità per quanto riguarda l'artista secondo me è anche importante che sia la cosa che mi colpisce di un artista che ritengo tale è un artista che abbia la voglia di imparare di crescere sempre di più di non credersi già arrivato questo è fondamentale o di anche comunque di sapersi evolvere perché questo secondo me è fondamentale l'arroganza e credere di essere già arrivati non aiutano mai però dei fattori che secondo me non aiutano l'artista sono appunto l'arroganza e il fatto di sentirsi già arrivato o di non avere la predisposizione ad ascoltare ovviamente poi noi non siamo i cattivi che impongono delle cose anzi per noi sempre un confronto per me prima di tutto viene l'idea anche dell'artista poi noi siamo siamo presenti per tirare le fila o dire questa cosa secondo noi no ti do questo consiglio o dare la forma giusta a un'idea che hanno in partenza un altro aspetto che secondo me non aiuta è non ascoltare cioè non ascoltare non solo le figure professionali non ascoltare tanta musica ho avuto artisti che alla domanda cosa ascolti ascolto le mie canzoni ascolto soltanto due cose ascolto solo i miei due idoli secondo me invece è importantissimo ascoltare un po' di tutto nel senso avere un ascolto un po' del panorama sia italiano che internazionale perché aiuta ad avere degli strumenti per creare qualcosa di nuovo dei reference non sono poi mai una scopiazzatura aiuta a sviluppare anche delle nuove idee ci sono dei progetti che ti ha dato una grossa soddisfazione che magari hai seguito dall'inizio e sono arrivati a un punto tale da dire cavolo sono veramente contenta di aver seguito questo progetto allora sì parecchi devo dire di sì ne cito un esempio beh perché mi dici seguito dall'inizio di cui sono molto soddisfatta ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare abbiamo firmato l'anno scorso ho iniziato a lavorare con gli Iside che sono ancora una band che è agli inizi però devo dire che la soddisfazione è stata loro avevano già tanti brani pronti quando ci siamo incontrati è stato fatto un buon lavoro in studio sono stata molto contenta perché l'esempio che facevo prima proprio il discorso del confronto dell'umanità e del sapersi far consigliare quindi sia a livello musicale loro hanno sempre prodotto e lavorato da soli li abbiamo presentati al nostro team in RCA con Enrico Brun e per loro è stata una sfida iniziale che è andata molto buon fine loro sono stati molto contenti poi ovviamente loro sono un tipo di artista di artisti che effettivamente fanno tutto da soli perché loro nascono come produttori alto prodotto al 100% quindi è un esempio che mi ha dato soddisfazione ma hanno fatto tanto anche da soli e la soddisfazione lì si vede mi spiace perché sono due anni che le vediamo poco l'ho vista su live perché quest'estate hanno fatto parecchie date in realtà abbiamo pubblicato solo un disco quindi siamo veramente agli inizi però le date ti danno poi sempre un percepito della risposta del pubblico l'anno scorso sono stati all'interno della campagna di Spotify Radar quindi secondo me vista anche la risposta che sta avendo il pubblico e un po' gli addetti lavori si potrà fare un ottimo lavoro ma loro sono molto aperti a lavorare e a scrivere con altri quindi secondo me faremo un buon lavoro è più facile lavorare con un artista che parte da zero quindi emergente al 100% che ha veramente 200 ascolti su eStore oppure è più facile lavorare con un artista che magari è già avviato ha già fatto qualcosa e deve riconfermarsi di nuovamente diciamo le strade hanno dei prodi contro i contro di lavorare con un progetto completamente da zero e che devi farlo conoscere e far appassionare gli altri quanto sei appassionata tu nel senso io ci credo ma nessun altro ancora ci crede perché nessuno lo conosce quindi si ha un pochettino più si ha un po' meno le spalle coperte perché soprattutto lato prom marketing poi insieme ai nostri colleghi bisogna far conoscere il progetto e quindi l'aspetto complicato è quello e soprattutto il mondo intorno a te non conosce l'artista non esiste su Spotify non esiste sulle piattaforme digitali su Amazon su Apple quindi la difficoltà è quella il vantaggio rispetto a un progetto che già è partito ma è un momento magari di difficoltà di ripresa è che tu inizi a lavorare da zero quindi è proprio un terreno fertile la difficoltà di un progetto che è già avviato appunto la facilità è che già lo si conosce se è in un momento di difficoltà chiedersi il perché è un momento di stallo quindi che può essere rinnovare il repertorio che serva un'evoluzione musicale un riposizionamento in termini anche di immagine cioè quindi la difficoltà è sicuramente quella come ha influito internet ovvero l'evoluzione di internet ad oggi nel tuo lavoro magari rispetto anche ai tuoi colleghi che lavoravano già da tanto tempo in questo settore? inizialmente sicuramente ci ha dato degli strumenti in più nel senso che se penso a colleghi che facevano l'INAR anni e anni fa parlo del periodo in cui non c'era cioè il mercato era quasi più fisico che digitale cioè lo scouting dell'INAR era andare, lo facciamo anche oggi, andiamo anche oggi per concerti però lo scouting era lì andare ad ascoltare, andare per locali ad ascoltare e fare scouting proprio fisicamente l'avvento di internet ci ha dato sicuramente più strumenti a noi e agli artisti perché anche gli artisti hanno cominciato a potersi fare la musica in cameretta letteralmente e potersela caricare sulle piattaforme, sui social da soli io mi ricordo facevo scouting tantissimo su Facebook inizialmente poi sono passata a Instagram, poi sono passata a SoundCloud quindi con l'evoluzione del... man mano che gli artisti, gli emergenti passavano da una piattaforma all'altra devo dire che in questo momento secondo me siamo in un momento proprio di saturazione in cui è diventato... c'è talmente tanta roba che è difficile scovarla internet ha reso tutto molto più frammentario sia in termini di ascolto, perché ormai lo vediamo anche dagli ascolti, dai numeri è più facile che facciano dei boom numericamente delle hit, dei singoli che degli album cioè l'ascolto è molto più legato alle playlist, ha dei singoli brani è molto più rapido, è molto più veloce quindi è più facile che ci si dimentichi velocemente quindi il successo sia ancora più rapido e quindi secondo me lo svantaggio di internet è un po' questo Uscendo dai argomenti più lavorativi caldi volevo chiederti un tuo primo ricordo legato alla musica che vuoi raccontarci se penso alla musica le prime cose che mi vengono in mente sono il pianoforte infatti ho visto che altri ospiti hanno portato delle cose da casa io non potendo il pianoforte perché appunto ho iniziato a suonare che avevo sei anni e i primi cd masterizzati mi ricordo benissimo lui li sapevo a memoria, prendendo gli elementari degli Oasis e degli Smith In questi anni che tipo di reazione hai avuto modo di instaurare con gli artisti? Il rapporto con gli artisti è fondamentale e secondo me si basa principalmente su un rapporto di fiducia reciproca senza quella è un disastro nel senso che l'artista deve potersi fidare di te e tu di lui nel momento in cui c'è un confronto bisogna dirsi le cose come stanno mi piace, non mi piace, voglio fare questo, non voglio fare quest'altro perché se l'artista si mette in un'ottica di ho paura di dire che non voglio fare una cosa però la faccio contro voglia o viceversa oppure al tempo stesso la fiducia è fondamentale poi il rapporto umano ovviamente siamo umani quindi c'è più o meno feeling anche in base a quello poi ovviamente non c'è una regola standard del rapporto che bisogna avere con l'artista è chiaro che con certi artisti ci si sente quotidianamente con altri un po' meno inserirei nel rapporto con l'artista una figura che è fondamentale che è quella del manager quindi questo rapporto di fiducia deve essere un rapporto di fiducia quindi il rapporto sì, noi abbiamo un rapporto diretto con gli artisti ma ci deve essere un ottimo rapporto di collaborazione anche con il manager nel senso che questa fiducia ci deve essere anche con lui e bisogna dirsi le cose come stanno e fare squadra perché l'obiettivo è comune quindi il successo dell'artista è l'obiettivo che tutti e tre io l'artista e il manager e la manager abbiamo abbiamo parlato di cosa un artista deve fare per magari farsi notare un E&R e invece che tipo di errori non deve fare un E&R durante il suo percorso? è giusto non deve, secondo me non bisogna avere nella supponenza di dire è giusto così e quindi ti impongo questo come dicevamo dall'altro bisogna anche avere il coraggio di ogni tanto di imporsi per il bene del progetto nel senso a volte è molto più facile dire di sì e quindi avere anche a volte un po' il polso di dire di no a un manager o a una manager di dire quello che si pensa di non assecondare troppo ovviamente sempre poi con un confronto che porta a una decisione comune però difendere delle idee le proprie a volte quelle dell'artista certe altre volte c'è stato mai un caso durante il tuo percorso di una persona esterna che ti ha costruito un artista che poi si è rivelata essere una scelta giusta? succede molto spesso nel senso che abbiamo parlato di scouting e ovviamente noi non abbiamo letteralmente il tempo di fare scouting solo su internet quindi succede molto spesso che manager con cui già collaboriamo o figure esterne o label indipendenti ci presentino dei nuovi progetti spesso emergenti un esempio noi lavoriamo con Amy Skilla in Epic e recentemente adesso da poco il suo manager Zanna con lui ha iniziato a fare appunto un'attività di scouting e ci ha portato due artisti Not Good e Rizzo Not Good è già un annetto che ci stiamo lavorando e Rizzo da pochissimo che sono dei progetti emergenti che secondo me hanno un ottimo potenziale Rizzo faccio l'esempio proprio recentissimo perché è una emergente con cui abbiamo iniziato un rapporto da zero e siamo alle primissime pubblicazioni è un esempio in cui noi ci crediamo ma non abbiamo scovata su internet è stata appunto una persona con cui già lavoriamo molto bene a consigliarcela come vi gestite le demo mail che vi arrivano? la domanda mi fa piangere qua nel senso che ovviamente riceviamo tantissime mail abbiamo una mail solo demo a cui siamo linkati tutti quanti ovviamente il tempo è pochissimo quindi le mail che arrivano al giorno sono veramente tante quindi il nostro obiettivo sarebbe rispondere a tutti quanti anche in caso di risposta negativa ovviamente non ce la facciamo quindi molto spesso rispondiamo a quello che riteniamo interessante poi quando riusciamo cerchiamo di rispondere dando anche dei consigli perché ovviamente la risposta negativa può portare delle motivazioni che possono aiutare l'artista secondo me l'obiettivo futuro potrebbe essere avere delle figure che vanno praticamente solo quello perché è molto importante dare feedback ad aspiranti artisti ed in realtà è uno strumento molto utile anche per noi perché spessissimo nel marasma di mail e di demo che arrivano può esserci un talento del futuro è possibile per un artista fare successo senza passare da voi? sì sì allora poi dipende da cosa si intende per successo spesso accade anche grazie appunto di internet che degli artisti siano stati scoperti si siano scoperti da soli però parlo di successo con l'esplosione di una hit o di un pezzo che poi noi in AR scopriamo in classifica quindi più che scoprire l'artista sì l'artista arriva un successo che poi noi vediamo in classifica o grazie ai dati secondo me poi ovviamente entra in gioco è fondamentale il team che entra in gioco dopo perché appunto in quel momento fai un successo con un brano però poi c'è tutto un percorso da fare quindi nel momento in cui entra in gioco un team, un in AR è fondamentale per confermare quel successo e per amplificarlo appunto legandomi a questa domanda volevo chiederti secondo te è più difficile fare un primo passo nell'industria musicale e farsi notare e avere una sorta di exploit o mantenere questo interesse e riconfermarlo? è più difficile mantenerlo nel senso che abbiamo strumenti che... ma faccio degli esempi Hit che esplodono su TikTok e improvvisamente l'artista è in hype e tutti hanno gli occhi su di lui molto spesso poi ci sono stati dei casi in cui poi l'artista è scomparso quindi bisogna poi confermare che l'artista è valido e a volte non basta ovviamente non basta una canzone di successo ce ne vogliono tante e tante canzoni di successo che da far uscire nel momento giusto quindi servono le Hit e i momenti giusti e quindi sì ovviamente poi mantenere il successo è forse la sfida più difficile come secondo te dovrebbe presentarsi un artista a un E&R? sicuramente una cosa importante nel primo nel riconoscere un talento è incontrarlo quindi è chiaro che non è facile per tutti incontrarci quindi è ovvio che il primo un primo step può essere una mail o può essere frequentare tanti concerti tanti live e tanti altri artisti perché magari portano anche l'opportunità di conoscere anche noi non è facile a me quello che ovviamente spesso ha convinto nel scegliere di lavorare con un artista è stato proprio poi la sua predisposizione anche in presenza quindi proprio l'atteggiamento propositivo il fattore umano esatto la fame anche dimostrare che si ha una gran voglia di spaccare e un po' questo come dicevo anche prima non il io faccio questo del meglio che posso fare sono già forte così ma la fame in realtà secondo me ha dietro anche quella voglia lì di dimostrare che si può fare sempre di più e quindi questo ovviamente il primo mezzo sono sicuramente le mail noi usiamo tanto anche instagram poi anche qui spesso magari non riusciamo a rispondere tutti ma sicuramente anche i social sono un modo per interfacciarsi con noi vero ti ringraziamo per essere stata ospita del nostro divano di tele music lab e ci sono degli spunti molto interessanti soprattutto anche per gli artisti che ci stanno ascoltando e chiudiamo con questa puntata di come funziona ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti ciao 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 ciao